no tienilo così si salite di scele siamo in montagna ricordatelo ti tieni con le racchette stiamo nel sesso sbagliato no impossibile salire da qua perché tutti non è la prima volta che fanno scele di fondo forse Elena gli sport invernali no gli sport in generale allora cosa ne pensi dello sci di fondo? mi piace, a parte qualche caduta è il cogelamento delle piazze qualche caduta come potete vedere lì c'è Elena per terra è caduta di faccia ciao amore no non mi devi sorbassare anche alle gare alle medie arrivavo sempre ultima possiamo bere acqua cosa ne pensi di questo sci di fondo? mi piace vederti cadere grazie mi sono impiantata la racchetta dentro lo sto giorno 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 ok la suona è caduta beh dai era più facile di quello che pensassi no mi ero appena rialzata no 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 no